Un uomo e il suo cane sono morti nel rogo di un'abitazione a Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Pracastello, l'incendio era generalizzato e interessava due piani dell'edificio. Le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco, hanno indossato gli autorespiratori e sono entrati nella casa. All'interno è stata fatta la tragica scoperta. L'uomo, Gianni Marrotto, 75 anni, tecnico radiologo in pensione, era privo di vita. Poco distante da lui, anche il cane. A ucciderli è stata l'asfissia provocata dal fumo e l'incapacità di scappare per le fiamme. L'incendio è avvenuto all'alba. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 5.55. Sul posto il personale del SUEM e dei carabinieri. Le cause della tragedia dovranno essere appurate, tra le ipotesi e il malfunzionamento di una stufa a cherosene.